Buongiorno cucciolini e cucciolini come state? Noi stiamo benissimo perché come avrete già visto nel video precedente chi sono arrivate? Sono arrivate le cuginette di Vanessa e Anastasia, Aria e Isabella quindi non abbiamo perso tempo e abbiamo dormito tutti insieme Aria e Anastasia in una cameretta, Vanessa e Isabella in un'altra ma guardate un po' qui chi c'è? Chi si è già svegliato insieme a me? Ah scusatemi ma sono ancora in pigiama Guardate un po' chi c'è? Buongiorno, buongiorno Aria Buongiorno Amore, ciao amore Ciao Avete dormito bene? Have you sleep good? Yeah? Bene, bene Tu Ani hai dormito bene? Avete dormito benissimo? Non vi siete mai svegliate tu questa notte ti sei svegliata, ti sei buttata addosso a lei credendo che era Vanessa e io ti ho detto spostati che Aria la sveglia allora l'hai guardata come per dire come Aria, ti eri già scordata Aria, do you want breakfast? Yeah? Brioche? Milk? Do you drink milk? Yes? Hot milk? I drink cold, but I don't want any milk Any milk? No? Ok Tu Ani cosa mangi? La briochina? Con? No, con la brioche che c'è Quale? Ci venite al tavolo? Se venite sul tavolo ho già messo qualche briochina Volete farla qui? Dove andate a svegliare Vanessa e Isabella? Ok Vi aspetto giù per la colazione, ok? Fai mettere le calze d'aria che sono in cameretta Buongiorno Isa, ciao amore Hai freddo? Avete dormito bene? Ok, breakfast? No? Pizza for breakfast? My pizza? No? Vuoi brioche? Milk? Ma? Cos'è? Facendo delle melanzane Ciao amore, come hai dormito? Mangiamo, ma lo mangiamo al Burger King oggi Come stai? Hai dormito bene? Avete dormito tutti bene, eh? Anche Aria? Benissimo Le calze ad Aria non gliele ancora date? Non le vuole? Cosa volete mangiare? Tu? Vuoi la briochina? Isa, tu ancora non hai fame? Sì Sì, hai fame? Sì? Vuoi il cappuccino? Andiamo giù a fare il cappuccino? Giù? Sì Downstairs? È giusto? Downstairs? Sì Ok, vuoi il cappuccino? Vuoi il cappuccino? Vuoi il cappuccino? Andiamo? Ma Aria? Calze? Shock? Socks? Vuoi le calze, amore? Brava, ok Ok, molto bene, brava Aria Cos'hai tu sotto questa ascella? Una bollicina? Eh? Hai la bollicina sotto la ascella? Trasparente Trasparente, non si vede ma si sente No, l'ho vista un po' però Ok, dai, allora aspetta che spengo un attimo le melanzane e andiamo a bere il cappuccino Ok Ok, bimbe, prepariamo i cappuccini? Dobbiamo accendere la macchinetta Avete fame? Ma senza cacao Tu non lo vuoi cacao? Tu vuoi cacao? Nesquik? Ok Vuoi venire a provare? Sì Ok Sai come si fa? Così? Su e giù Qua, su e giù, ok? Wow, very good Piano piano, 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 piano Ok, piano Tu non lo vuoi hai detto? Vero? Vero? Ok Stop Very good Vanè, prendi, Vanessa, prendi la tua tazza per favore Ok Stop Oh, vai vai, vai Yes Ok Perfetto Perfettissimo Brava Isabella, promossa Vanessa Tieni Non è un cappuccino Babycino Babycino Baby you Piccolo Perché non c'è caffè Ok E il cioccolato? Nesquik? Tenite questa cannuccia Ok Prendi il nesquik, amore Ma la cannuccia fredda con il cappuccino non ci sta tanto bene Le cannucce fredde sono buone per i cocktail che sono freddi con il ghiaccio Metti il milk Io non voglio Sì, amore Come ti dice? Oh Middle, eh? Ancora? Ok, stop Ok, stop E tu no? No, io sì Ancora, Anastasia Anni Vuoi Sì Fa lei Anastasia che tu sei piccina, ok? Ok Ci siamo? Sì La bar girl Una colazione, bimbe Buona colazione Grazie Ciao bellissima Cos'è successo, amore? Ti sei bruciata con il latte bollente? Io te l'avevo detto, però adesso te lo rifà la mamma Lo vuoi più con la schiuma? Come Vanessa? Come questo qui che è super cappuccinoso? Ma sempre con... Fino acqua Ok Ma sempre con il cioccolato? Senza Senza Ok Ok, allora facciamo così Io te lo faccio senza Poi se vuoi il cioccolato lo aggiungiamo dopo Va bene? Fammi vedere la lingua Mannaggia Va vedere? Togli il ghiaccio Ti sta un pochino passando? Non tanto Non metterlo tutto in bocca, eh Anni che ho paura, eh? Allora, bimbe Vi andate a preparare Vi andate a vestire A lavare i denti Isabella Ti do la regia in mano Ti do la regia in mano Ok? Ci pensi tu? C'è un pochino passando? C'è un pochino passando? C'è un pochino passando? Allora, adesso Vanessa Vai a cambiare Ok, questo è Outfit di Vanessa Calze con le scarpe Pantaloni bianchi E maglietta nera E borsa stupenda blu Con questo qui Tipo a ciondolo Bellissimo Dove ci puoi mettere tutto col chi vuoi dentro Siamo lavare i denti Aria, saluta Aria E adesso No, lo seguiamo Anche la vestita Miniatemi sono già vestita Però Porniamo al Burger King Sono bellissima Ciao 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 Che bella Ok C'è una maglietta La gin Nero Di negozio O di store Allora Isabella Cosa vuole Jellyfruit? Mi amici A scuola Ha detto Isa Quando vai in Italia Posso prendere la jellyfruit? Sì Mi prendi per i miei amici Due? Ma no Uno E li dividi Sono tanti La prima gomma Sì amore Va bene No La crema gomma No No Questo Un cestino Perché se no Non si capisce Ma uno Quartucchio e due Ma non è buono Ma non è buono Buono Va bene Ok È questo Jelly? È questo jelly? Sì Ok Posso prendere questo? Ok Ragazzi Mi hanno trovato il sushi Il sushi nel negozio di caramelle Incredibile Ah ma sono caramelle Ok Only one No Anni Non si può comprare Allora togli il Quel coso lì È forma di Lipstick Di rossetto Che tanto non è buono È più buono È bello Anni Anni Aria What is this? È l'abba Brava Anni Brava Pochi pochi Così è la cosa Io ho visto sul tiktok È capito Ma sul tiktok C'è di tutto Non possiamo comprare tutto E a cosa serve questo? Jeff Mamma Io ho detto di Vanessa Vanessa lo sai Là ho visto C'è lo questi E ho visto Mamma Mamma io prendo Ok prendi No no pochi di meno Prendine uno solo Perché se poi non sono buoni Li buttiamo Ne prendi Ho detto Ok Lasciali tutti Lasciali tutti Guarda che ti porto a casa Solo due li voglio prendere E se poi intanto Non ti piacciono Butta Li avevamo già presi Che era Halloween E non ti piacevano Prendine uno Oh Aria Only one Two Only two Dai Two E se prendiamo la cosa Per schifare In questo posto C'è Cioè Cosa è Vane Scusa No 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 amore Caramelle credo Ok bimbe Sono riuscita a portarvi fuori Queste due erano impazzite Oh no Cosa Aria Andiamo a Burger King Andiamo a pranzo Ok Dai E ragazzi Cos'è successo Stiamo mangiando Il Burger King E a Venezia è caduto Il dente Il dente Guardate qui Un bel molare Grossissimo Fa vedere Fa vedere Non l'ho visto nemmeno io Oh Vane Però ti sei tolta il pensiero Vero Perché non riuscivi a mangiare Poverina Le faceva tanto male Adesso mangi Finalmente Meno male Ok abbiamo finito di mangiare Burger King Adesso andiamo Della supermercata Ah no Vado io Tu vai un attimo Con la mamma Con la tua mamma A fare una commissione Poi venite da me Ok Andiamo a fare la spesa Eh Dai Andiamo Ok bimbe Siamo tornate a casa Vediamo quanto sei brava Mi raccomando Mamma mia Sei bravissima La numero uno Aria Ok bravissima Amore La ruota spaccata Però cerca di Dai Vane Tu poi basta Andiamo Wow Bravissima Isabella E poi io No poi basta Brava Allora ascoltatemi C'è una cosa dietro di me Lo so Lo so Vanessa Salutiamo i nostri cuccioline Cuccioline Ciao Iscrivetevi al canale E faccio un bel like E attivate la campanella Ciao Ciao Ciao